Scusi, posso chiedere a te una... Grazie. Scusi, posso chiedere? 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 Grazie a tutti. 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 Ok, ok, perfetto, perfetto. Mentre per pallavolo femminile abbiamo Lonate, un po' di tifo, insomma, un po' di... Ah, che cavolo. Ok, perfetto. E' un po' di là, no? Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 wow. a tutti. 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 va bene. a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.